buonasera cari amici io stasera ho deciso di regalarvi un rito per liberarsi della povertà sapete perché ha deciso così ho deciso perché adesso ho cominciato a vedere a rispondere alle persone che mi scrivono sul messenger e vedo che tanti perché io come ha deciso ho pianificato un pochino il mio lavoro perché ha voluto vedere aspettavo che scrivevate tanti e volete vedere quali sono i maggiori problemi della gente maggiori problemi della gente come ho visto io erano i problemi economici che tra l'altro non mi stupisco con la situazione in italia è normale che sia in quel modo vi prometto che poco alla volta vi darò rituali per tutti i vostri problemi nel settore della vita problemi amorosi e problemi finanziari problemi di relazione problemi di salute sapete cosa cos'è un buon esempio per capire che la magia che il mondo dei spiriti dell'identità esiste vedrò un vivo esempio ad esempio io sono ucraina io non vivo in ucraina no io vivo in inghilterra però voi sicuramente avete tanti ucraini che sono venuti a lavorare in in italia io lo so che ce ne stanno tanti magari avete tra le amicizie oppure semplicemente digitate andate sul facebook a vedere le loro pagine sicuramente vedrete che loro vivendo in ucraina e sapete in ucraina già sono cinque anni che la guerra vedrete che loro sono tutti vestiti benissimo non peggio quelli europei hanno dei lavori rispettabili si vestano comunque abbastanza bene hanno delle macchine vi chiedete come fanno anche fanno dei viaggi sono andato con la mia famiglia in viaggio e vedo sempre ucraini e russi e voi sapete benissimo che governo che hanno hanno governo veramente brutto in ucraina sono cinque anni che abbiamo la guerra però in ucraina è un paese che usa tantissimo la magia la gente non non vive un giorno senza anche quelle persone che sono fanno dei lavori importanti ad esempio mio padre era un dottore e quando ci lasciavano quando ero piccola mi lasciavano con la mia nonna mia nonna lei praticava e quando ci ammalavamo lei ci curava sempre con le sue erbe con le pozioni che preparava mio padre che era chirurgo era primario ne ha mai detto niente contro di quello che faceva la mia nonna non è che diceva qualcosa affermava no perché sapete loro per orgoglio non dicono però lui non ha mai detto niente contro di quello che per noi faceva la mia nonna dunque dove voglio arrivare ho visto che nel pubblico italiano ha tanto bisogno di certi di aggiustamenti su certi questioni della vita e prima era i problemi finanziari fallimenti cari ragazzi vedete tutto il mondo nostro che viviamo noi e creato delle energie queste energie e come una rete che praticamente comprende tutto quello che voi vedete incontro sono fatti delle energie energie che sono intrecciate tra di loro qualsiasi vostra emozione qualsiasi vostra azione sono delle energie la povertà è una energia la ricchezza è sempre è una energia come la ricchezza comprende felicità quando una persona gioisce esprime talmente tanta quella energia di felicità che vanno alle forze che corrispondono alla ricchezza dei soldi quindi uno attira quello che è se una persona è felice e contenta attira ancora più felicità e più attira ricchezza e benestanza quando una persona povera sempre depressa attira ancora sempre di più problemi persone da sempre avevano paura di povertà da secoli e secoli per questo noi vediamo molto spesso quando e credo che la parola giusta è senza tetto quando chiedono la limosina loro hanno sempre un capello o una scatola un piatto dove noi possiamo quelli che doniamo possiamo lasciare il denaro in monete da lì partita questa tradizione di lasciare il capello perché le persone avevano sempre paura di contagiarsi della povertà perché si crede che la povertà si è contagiosa può essere contagiata quindi cercavano di non toccare la mano di quello che chiedeva a posare per terra e e dopo hanno cominciato usare il capello il piatto eccetera eccetera vi vorrei dire soltanto una cosa molto importante che pochi che lo sanno quando vedete che una persona che limosina sta seduta sopra una cassa una cassa sì una cassa della frutta o una cassa di cartone molti non lo sanno e fanno involontariamente tanti altri lo fanno a proposito guardate quando vedete una persona così non gli donate mai niente perché si dice se doni la tua energia a uno chiedente seduto sopra la cassa finirai dentro la cassa e voi sapete che la cassa esiste anche quella da morto quindi non donate mai a una persona quelle che chiede che è seduto sopra la cassa quando voi donate cercate di non toccare mai mano a mano e quando donate pronunciate dentro di voi questa frase che la mano che dona non sarà mai in perdita pronunciate sempre questa orazione mentre che donate sono molto anche pericolosi questi che chiedono il limosine fuori della chiesa perché ci sono certi riti per togliere la vostra ricchezza la vostra gioventù la vostra salute la vostra felicità questa noi però parleremo nelle teme che voglio creare una tema per voi per aprire la tema che parlerà delle fatture come se fanno le fatture che voi potete incontrarci tutti i giorni ma non la conoscete magari che una fattura quindi tanti ci cascano io mi sono fatta dai appunti quelli più importanti di dirvi perché io ho visto che tantissimi non lo sanno capite i soldi è una energia e una energia è molto capricciosa una persona che è debole partiamo da fisicamente quando una persona fisicamente debole perché magari o lavora tanto o delle malattie o semplicemente depressa fisicamente deboli dal nostro fisico che il nostro fisico è come un accumulatore i nostri corpi energetici che sono sette anche di questo vi farò una bella tema parleremo di sette corpi energetici come cosa corrispondono come a imparare di usare i suoi corpi energetici vedrete che aiuto che vi fa nella vostra vita però adesso non parleremo di questo nella nel popolo semplicemente la chiamano aura molto deboli quindi non è capace a attirare la energia dei soldi perché i soldi è una energia capricciosa e potente va da quelli che sono persone che hanno energia forte potente quindi potenza attira potenza fragilità e debolezza attira fragilità e debolezza come l'energia dei soldi che è un egregor un accumulo di energia si chiama egregor che già si crea e riesce a esistere anche da solo ok come la felicità è un egregor anche la povertà è un egregor quindi però la felicità si nutre delle vostre altre alti emozioni e povertà creata dell'identità che si nutrono delle basse emozioni quando una persona soffre si preoccupa eccetera eccetera mondo creato da questa rete e anche noi stessi siamo energia quindi positività quando siamo positivi attiriamo le cose positive quando siamo negativi depressi otterriamo ancora più problemi per questo dicono la disgrazia non arriva mai da sola non so se avete notato quando vi ammalate quando vi sentirete male arrivano subito problemi dei soldi litigate con qualcuno la gente fallisce e non finisce mai perché una identità che lavora per la povertà e disgrazia attira altra identità il loro voi in questo momento quando voi cascate nella loro trappola diventato un bel pezzo gustoso per queste identità che si nutrono di voi povertà è la più spaventosa maledizione per umanità una persona molto spesso preferisce soffrire con anima che soffrire fisicamente sì sì fisicamente perché la povertà porta alla fame al freddo uno che sta senza il tetto quindi soffre tutto il vostro organismo tutto il corpo quindi porta alla sofferenza fisica c'è un detto quando dicono quando la povertà bussa alla porta l'amore se ne va dalla finestra e questo è anche vero perché perché quando è una famiglia povera quando non ci stanno in mezzi per sfamare i figli quando una donna non riesce a avere le cose che magari hanno altre donne vestiti profumi o altre o altre cose un marito può promettere quanto vi pare il suo amore però comunque prima o poi questo rapporto finirà purtroppo tutto quello che è in questo modo collegato con il mondo materiale perché è sempre meglio soffrire per l'amore dentro una bella casa lussuosa con brillante addosso che soffrire per l'amore nella fame e nella povertà magari ancora peggio senza detto tutti questi detti che dicono due cori e una capanna sapete questo funziona soltanto all'inizio perché dopo cominciano i problemi problemi di tutti i giorni soprattutto quando nascono i figli oppure quelli che dicono noi siamo poveri ma siamo orgogliosi mi fanno veramente ridere perché sono quelle persone che invidiano più di tutti alle persone che stanno bene e sputtano veleno dalla mattina alla sera le giudicano e le odiano e la mandano a tutte quelle negatività che hanno dentro loro però quella negatività a quelle persone ricche non si attacca mai sapete perché perché tutte le persone ricche ormai hanno scoperto il segreto della ricchezza non essere mai depressi sempre positivi e attirare ancora più positività e benessere nella vostra vita non esiste animo ricco con stomaco vuoto non esiste assolutamente come dicono va bene il povero però l'animo ricco questo sono stati inventori di questa frase quelli che non hanno niente non hanno niente per consolarsi hanno inventato questa frase perché una persona che soffre della fame che non ha i soldi per pagare la luce non ha soldi per pagare riscaldamento per i figli non ha soldi per comprare vestiti da mangiare non pensa di andare il teatro di arricchire la sua anima dello sviluppo culturale per questo vi sto ripetere sempre dovete fortificare la vostra relazione e collegamento con le forze del denaro con l'energia del denaro ho fatto tutto un piano che vi voglio regalare adesso rituali che voi potete fare da soli senza andare a chiedere e nessuno non vi prenderà in giro nessuno vi prenderà i soldi per fare magari questo rito per connettersi con Gregor del denaro voi potete fare da soli da soli senza chiedere mai nessuno qualcosa già avevo pubblicato sul mio profilo ma del di youtube mio canale esiste soltanto un mese neanche perché ho visto che veramente nel pubblico italiano avete tanto bisogno di questa informazione e non voglio più che voi soffrirete che non avete non sapete dove sbattere la testa che andate a trovare incontrare dei truffaldini che si rifanno sopra di voi e dopo spariscono voi dovete essere capaci di sistemare la vostra vita da soli povertà è una forza è un egregor e Gregor ripeto ancora voglio che sapete anche queste parole voglio sapete i termini e Gregor è una quantità di energia accumulata insieme in unico che creata dell'identità che nutrono questo egregor che se hanno tramite queste identità entrano sulle persone non è che li possiedono stanno accanto se voi avevate avevate sviluppato la chiaroveggenza vedevate che loro sono delle accumuli dei delle proprio si vedono come le bolle bolle nere che girano intorno a una persona negatività povertà che lo fa sempre essere nervoso e voi assolutamente potete scaricarvi di questo e ci sono tanti modi vi regalerò poco alla volta sempre perché perché voglio regalare tanti rituali perché noi siamo tutti diversi abbiamo le energie diverse per magari per uno va bene questo rito per l'altro va bene un altro voi dovete provare trovare il vostro rituale dunque cosa vi servirà guardate voi dovete trovare una vostra vecchia camicia perché vecchia vecchia perché rappresenta la povertà una cosa che è già consumata ok io ho preso un pezzo di stoffa che non fa parte della vecchia camicia perché non sto facendo rituale ma vi sto soltanto facendo vedere ma veramente non ho neanche le cose vecchie a casa mia io ho tutte le cose che sono vecchie magari non è che sono vecchie anche non li metto io apro il mio guardarobo vedo che se ho le cose che non metto ultimi tre mesi io li butto via tutti anche per buttare via io vi voglio insegnare come se fa in modo corretto assolutamente non consiglio di dare sul caritas perché molto spesso voi non sapete mai dove va noi vestiti che erano vostri con la vostra energia lavando non cambia niente non è che togliete oppure vi insegno come purificarli ma tanto non fa molto se volete donare se volete donare donate i soldi ma non donate mai i vostri vestiti ma soprattutto le scarpe perché le peggiore fatture si fanno sulle scarpe non è che qualcuno andrà subito prendere le vostre scarpe per farvi una fattura ma se queste scarpe andranno una persona che magari ha una fattura energeticamente voi siete subito collegati con quella persona e dovete sapere che l'impronta una volta sull'impronte anche adesso le streghe esperte possono fare una fattura anche a morte quindi assolutamente non donate i vostri vestiti infatti voglio fare un video dove vi spiegherò tutte le cose sulle fatture ma non che voi dovete fare le fatture per proteggersi da essi dunque avete capito vi serve un pezzo della vostra strappate proprio della vostra camicia vi servono sei monete meglio se sono da cinque monete da cinque e vi spiego adesso perché se nel vostro paese mi sembra che in italia cinque centesimi non ci sono se ci sono bene se non ci sono prendete cinquanta ok perché numero cinque sul denaro ha un significato ok il significato è sempre spostamento spostamento come per andare via quanto trovate per terra cinque centesimi quindi comunque non dovete mai raccogliere i soldi ma soprattutto cinque centesimi perché se fanno peggiori fatture sul cinque mettono sugli occhi quando una persona muore mettono sugli occhi due monete così se dice certa dopo quando si elevano se dicono certi spell e così si tolgono cose che servono salute benessere giovenezza eccetera eccetera comunque sei sei monete da cinque anche qua noi dobbiamo portare via queste identità quindi noi servono per questo servono cinque numero cinque serve un nastro nero o filo nero quello che vi sta più comodo candele non le fate caso questo è soltanto per illuminazione la luna qua nel questo rito non vale non conta assolutamente certo chi riesce a beccare la luna calante è meglio se no non importa voi questo rito potete ripetere tutte quelle volte quando sentite che avete bisogno quando vi sentite che cominciano problemi economici rifate questo rito molto veloce non richiede tanto però veramente funzionante in ucraina si usa tanto dunque cosa cosa facciamo prendiamo questi sei monete mettiamo sopra la stoffa e leggiamo sei volte sei volte leggiamo questa orazione per ogni moneta una orazione ok lasciamoli così io non leggerò sei volte leggerò soltanto una volta e voi invece sai se no il video diventa infinito radunerò in uno sei identità identità di povertà identità di miseria identità di preoccupazione identità di agonia identità di delusione identità di senza speranza ognuno darò la moneta ogni ro unirò in unico nel sacco chiuderò identità di agonia identità di delusione identità di senza speranza tutti in unico unirò nel sacco chiuderò dalla casa mia manderò via dovete leggere sei volte una volta avete letto sei volte prendete e fate in modo chiudete in modo che vi diventa tipo un sacchetto più o meno così facciamo il nodo ok lo facciamo il nodo così cosa dovete fare dunque questo rito è sempre meglio fare dopo le sei la sera pomeriggio dopo le sei fate così vi legate al vostro collo ok legate al vostro collo uscite sopra mettete qualche sciarpa perché la gente chiamerà l'ambulanza sopra mettete qualche sciarpa che è in full ar che non si vede ok inverno comodo perché c'è il capotto la giacca andatela all'incrocio meglio che sia un filo perché questo qua per strappare è difficile perché voi dovete proprio strappare oppure fare un nodo che quando tirate se sfa esistono questi nodi se fa così e diventa un nodo quindi quando lo levate fate così se ne va ok però meglio se usate il filo che potete strappare perché lo dovete proprio strappare non aprire ma strappare qua è tutto tutto trucco quando lo strappate avete strappato e pronunciate questo scendi da me povertà miseria preoccupazione agonia delusione senza speranza tolgo da me per sempre sotto terra sprofondate la mia persona da voi liberate sarà così ordino una volta soltanto dovete dire girate giratevi e andate via cercate il prossimo giorno non passare lì questo rituale potete ripetere tutte quelle volte che sentite che ne avete bisogno perché queste identità sono larve si dicono anche loro si attaccano sempre appena vi sentite depressi loro sentono il cibo e arrivano subito perché energia è come il sangue per lo squalo quindi appena avete visto che voi avete problemi con i soldi depressione nervosi subito fate questo questo è come anche una pulizia soltanto per queste identità perché le pulizie purificazioni vi darò anche però questa è proprio destinata che è liberarsi della povertà spero che il rito per voi sarà utile subito vi voglio dire che non è pericoloso perché io comincio con voi con riti base andremo sempre a crescere con riti più forti più importanti e tanti mi chiedono tante persone che mi avevano già scritto se facevamo corsi per quelli che vogliono praticare seriamente e con riti più più importanti però sapete io ancora non so cosa dirvi perché come questi pubblico sul youtube e ovviamente ci sono certi riti che non posso dare al pubblico e sicuramente magari con qualche gruppo inventeremo modo dove possiamo pubblicare questi riti però i gruppi devono essere seri dove non ognuno può entrare dovrebbero essere soltanto i pratici quelli che praticano ma questo ancora tutto da decidere perché io appena sono entrata sul youtube e anche aperto il profilo italiano quindi adesso voglio vedere anche delle persone che ho visto già alcuni molto valide e quindi qualcosa inventeremo oppure farò un album sul mio profilo chiuso dove includerò soltanto queste persone e pubblicherò di lì che vedranno soltanto loro tutto qui ragazzi io credo che finisco qua vi saluto tutti le mie benedizioni con voi c'era Lilia